La sala blu della sede della regione Abruzzo di Viale Bovio a Pescara è stata ufficialmente intitolata alla memoria di Filomena degli Gastelli. Originaria di Città Sant'Angelo dove nacque esattamente 100 anni fa, la deputata abruzzese scomparsa sei anni fa all'età di 94 anni è stata una delle 21 donne elette nell'Assemblea Costituente. Alla presenza del sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, dell'assessore alle pari opportunità Marinella Sclocco, della presidente della commissione regionale pari opportunità Gemma Andreini, dell'assessore comunale di Pescara Antonella Allegrino e della giornalista Alessandra Portinari, all'ingresso dell'ormai ex sala blu è stata scoperta una targa in ricordo della degli Castelli, mentre all'interno della sala è stata fissa un'immagine della deputata che dal 1951 al 1955 è stata anche sindaco di Montesilvano. Nel corso della mattinata sono stati anche proiettati due video sulla vita e sull'impegno sociale e politico di Filomena Delli Castelli, frutto dell'attività didattica degli studenti del liceo scientifico da Vinci di Pescara e del liceo scientifico Corradino da Scagno di Montesilvano.